Iniziamo con il vedere le tipologie di trading e andiamo ad individuare due grandi macro aree, il trading di tipo discrezionale e l'algoritmico. Il trading di tipo discrezionale si basa sul concetto che è il trader che decide di mandare una trade a mercato in base alla sua esperienza personale, al suo progresso, alla conoscenza del titolo e al contesto di mercato. Quindi le scelte del trader partono da un segnale operativo dettato dalla tecnica sviluppata, ma successivamente deciderà poi se inviare o meno l'ingresso a mercato in base alla sua esperienza e quindi è un trading di tipo discrezionale. Sarà la sua discrezione centrale sul mercato oppure no? Il trader di tipo algoritmico invece basa tutte le sue strategie in modo totalmente differente. Infatti le sue scelte si basano sull'analisi del dato statistico e sulle strategie di trading applicate. Quando arriva un segnale non si pone alcun dubbio e lo esegue manualmente o meccanicamente tramite un trading system dedicato. Questo perché? Perché il trader di tipo algoritmico ha analizzato in modo quantitativo tutta una serie di dati storici, ha effettuato dei backtest e ha costruito le sue strategie in base al livello di probabilità sui dati storici. Quindi lui è obbligato a mandare la trade a mercato. Altrimenti andrebbe ad inficiare la sua strategia. Nel panorama dei servizi offerti appunto dal mercato del trading online esistono anche altre tipologie e andiamo a vedere quali. Il copy trading o copy portfolio lo abbiamo evidenziato quando abbiamo parlato dei servizi di eToro ma poi eventualmente andremo a approfondire ulteriormente. Poi esistono altre tipologie di offerte sul mercato come ad esempio i servizi di segnali operativi e i trading system a pagamento. I primi, i servizi di segnali operativi, sono tutti quei segnali offerti da società che hanno come core business proprio la costruzione di questo genere di operatività quindi generano segnali operativi per i trader di tipo discrezionale e inviano i loro segnali, comunque li offrono a pagamento per tutti quei trader che non hanno una strategia sviluppata. I trading system invece sono per tutti i trader di tipo algoritmico che invece non hanno sviluppato dei trading system propri e utilizzano dei trading system a pagamento per mandare a mercato le loro trade e quindi si basano su algoritmi non di proprietà. Andiamo oltre e vediamo il copy trading e il copy portfolio. Non ci soffermeremo molto perché abbiamo già analizzato questa tipologia di trading in precedenza però andiamo a prendere e riprendere i concetti principali. Sostanzialmente andiamo con il copy trading a copiare i trader che sono attivi sulla piattaforma di eToro e scegliamo un trader in base a determinate tipologie di caratteristiche che possono essere legate alla performance, all'asset, al punteggio di rischio o altre tipologie di filtri. Quindi ha un tipo di trading che si può più o meno adattare a quelle che sono le nostre esigenze. Viene poi impostato un importo, si sceglie un importo totale per la copia e le proporzioni vengono calcolate in automatico. Poi si clicca sul pulsante copia e si inizia esattamente a copiare in modo automatico la posizione del trader. Ricordo che questa è una slide statica e quindi non è rappresentativa delle condizioni attuali di eToro. Per chi fosse interessato ad andare a approfondire il servizio può andare sul sito di eToro, sul servizio di copy trading e andare a confrontare quello che abbiamo detto in questa slide alle condizioni attuali di negoziazione e a quindi tutte le condizioni collegate al servizio di copy trading. Per quanto riguarda invece il copy portfolio, anche qui ne abbiamo parlato a lungo in un modulo precedente, ma lo andiamo a riprendere. Il copy portfolio è sostanzialmente la copia di portafogli in modello che sono legati a determinate strategie e a determinati asset e composizioni di portafoglio stesso. Possono essere di tipo i più sbariati, ma possono essere di tipo sia tematico che essere bilanciati, che investire su particolari tipologie di mercati. Sono molto vari, esistono grandi possibilità e grandi opportunità tra i copy portfolio, quindi esistono molteplici e sono molto eterogenei e danno la possibilità di identificare quello che è l'investimento a un portafoglio ideale. Andiamo a vedere in questa slide alcune tipologie di portafogli. Noi abbiamo già, appunto come avevamo detto in precedenza, direttamente sulla piattaforma di eToro, siamo già andati a vedere tutti i vari portafogli, le possibilità, tutto quello che offre il mondo del copy portfolio. In questa slide volevo semplicemente riassumere alcune caratteristiche. Vedete per esempio che è possibile avere dei portafogli in modello sulle criptovalute. Oltre ad avere portafogli così specifici, oltretutto si possono avere portafogli di tipo tech, quindi tecnologici, azionari, obbligazionari, si può decidere di andare in alcune nicchie di mercato, come ad esempio il digital commerce. Si possono fare determinate selezioni, si possono filtrare tutta una serie di tipologie in base al proprio profilo di rischio, alla propria necessità a livello di rendimento, alla popolarità e tutto attraverso questi filtri. Quindi per chi fosse interessato, diciamo, a replicare un portafoglio con determinate caratteristiche che possono essere sia a livello di asset sottostante, quindi nicchie di mercato, particolari tipologie di attività come criptovalute oppure altre tipologie di settori più tematici, andate sul sito di Etoro e approfondite quella che è tutto il mondo dei copi per foglio e tutte le possibilità che vi offre la piattaforma a livello di filtri. Andiamo ad analizzare adesso e ad approfondire le principali strategie di trading. Prima di iniziare vorrei fare una premessa, ovvero vorrei farvi comprendere che quando si parla di movimenti di mercato e movimenti di un titolo azionario si parla di due fasi particolari, cioè le due uniche fasi in cui si può trovare un titolo, ovvero direzionale, una fase di direzionalità rialzista o direzionalità ribassista o in una fase laterale. Quindi il titolo si può trovare sostanzialmente in queste tre fasi, ribassista, rialzista o laterale. Le prime due, rialzista e ribassista, fanno parte delle fasi di direzionalità. Quindi adesso possiamo parlare di strategie, cioè strategie da applicare in direzione del trend, da applicare contro il trend oppure in fase di lateralità. Le strategie di trend following, ovvero in direzione del trend, sono quelle strategie che prevedono che il trader prenda una posizione a rialzo o a ribasso in direzione del movimento di base, entrando con un segnale favorevole alla tendenza. Questo implica ovviamente che il trader pensa che il trend, il movimento di base, possa continuare e quindi di trarre un beneficio entrando al mercato. Nelle strategie invece reversal o contro trend, si prevede che il trader prenda una posizione long o short nella direzione opposta al movimento di fondo, entrando con un segnale contrario alla tendenza. In questo caso possiamo avere diversi scenari, nel senso che in un trend rialzista possiamo avere degli scenari di prese di beneficio, quindi delle piccole inversioni del mercato che non si possono neanche chiamare inversione, sostanzialmente sono delle flessioni del mercato, dei leggeri cali di mercato, nei quali gli acquirenti, dopo che hanno portato avanti una trade in eccessivo guadagno, e decidono di prendere dei benefici e quindi di liquidare la posizione. Queste sono sostanzialmente chiamate prese di beneficio. Poi si hanno dei brevi ritracciamenti o anche dei tracciamenti un po' più profondi, ma fanno parte sempre del movimento rialzista del trend di fondo, quindi sono dei ritracciamenti, quindi delle flessioni, un po' più profonde rispetto a quelle che sono le prese di beneficio, ma che fanno parte del movimento rialzista e quindi ci si attende sostanzialmente un movimento di swing, dal quale poi successivamente possa ripartire il trend rialzista e quindi si possono sfruttare dal punto di vista reversal, quindi in direzione opposta al trend. Infine ci sono invece le vere e proprie correzioni, cioè quelle che quando si parla di trend rialzista di medio-lungo termine, generano proprio, cioè sono delle inversioni della tendenza di base e quindi una rottura del trend di fondo rialzista per generare poi un trend ribassista duraturo e persistente. Infine abbiamo le strategie in trending range, ovvero in fase laterale, quelle fasi che sono delle bande di oscillazione tra delle aree di minimo e delle aree di massimo nel quale si trova un titolo e nel quale sostanzialmente si muove in un contesto quindi di lateralità e di fase di oscillazione o compressione. Nella parte destra della slide possiamo vedere alcune caratteristiche delle strategie in trend following e in reversal. Intanto possiamo dire che nelle strategie di tipo trend following si resta maggiormente a mercato rispetto alle strategie di tipo reversal. Questo perché se ragioniamoci un attimo insieme, quando noi decidiamo di cavalcare un trend è facile che se noi diciamo effettuiamo una trade e questa trade va nella direzione corretta quindi abbiamo fatto le nostre previsioni in una maniera giusta questa trade continui a seguire il trend di mercato e se questo trend è persistente il tempo a mercato sarà maggiore. Se poi ovviamente a questo noi associamo un obiettivo di rischio di rapporto rischio rendimento abbastanza ampio e quindi un trading stop magari che segue la trade e un obiettivo e un target è piuttosto lontano è possibile che restiamo molto tempo a mercato. Le strategie di tipo reversal invece si resta meno a mercato perché se noi prendiamo in considerazione le prese di beneficio oppure sostanzialmente i ritracciamenti di mercato questi magari possono essere inquadrati nell'arco di 4-5 sedute magari 2 settimane è molto più difficile riuscire a trovare quello che è un reversal che poi diventa sostanzialmente una vera e propria correzione e quindi si resta molto tempo molto meno tempo a mercato rispetto a quelle che sono le trade in trend quindi in trend following. Stando maggiormente in trend e quindi stando maggiormente a mercato abbiamo dei game più ampi cioè si guadagna di più quindi se noi lasciamo correre la trade quindi lasciamo correre i guadagni e quindi avremo dei gain più ampi stando meno a mercato avremo dei gain più limitati. L'ultimo punto è che avremo meno trade vincenti in quello che sono le impostazioni di in trend following e avremo invece più trade vincenti su quelle che sono le strategie reversal questo perché? Perché le strategie reversal normalmente per lo meno i segnali delle strategie reversal sono più facilmente individuabili e quindi è facile che avremo più trade che saranno vincenti ma con gain più limitati. Nel caso invece del trend following i segnali operativi sono meno evidenti meno chiari e quindi avremo dei gain più ampi nel momento in cui avremo una trade in direzione del trend di base mentre avremo più trading stop in quanto i segnali come abbiamo detto sono meno chiari e quindi un numero inferiore di trade vincenti. Ma facciamo adesso un passo indietro ed andiamo ad individuare quelli che possono essere i movimenti del titolo all'interno di un grafico e quali possono essere le chiare tendenze individuabili. Abbiamo due macro aree quella che è un trend quindi sostanzialmente un movimento direzionale del titolo che può essere sia a ribasso che a rialzo oppure una fase laterale ovvero un'oscillazione del prezzo all'interno di una fase che può essere una fase di compressione tra un minimo un'area di minimo e un'area di massimo. Il trend poi può essere di breve medio o lungo termine. In questo caso vediamo per esempio un trend ribassista di breve e medio termine seguito da un trend rialzista di medio o lungo termine e successivamente da una fase laterale anche in questo caso essendo di 4 mesi indicativamente possiamo dire essere di medio o lungo termine. All'interno di quelli che sono trend di medio o lungo poi esistono dei micro trend individuabili come in questo caso per esempio in una fase laterale piuttosto che in un trend ribassista quindi all'interno di movimenti di lungo periodo direzionali esistono poi dei micro movimenti che sono e possono essere sia laterali e quindi fasi di consolidamento o di compressione sia invece in questo caso ribassisti perché ad esempio possono essere prese di beneficio o dei minimi ritracciamenti. Per quanto riguarda invece la fase laterale avremo ovviamente dei movimenti sia ribassisti che rialzisti all'interno della fase laterale che rappresentano i pullback sui livelli di minimo o di massimo quindi sui supporti o sulle resistenze. Quindi anche in questo caso dei micro trend all'interno del trend di base che si può individuare come fase laterale. Adesso cerchiamo di affrontare invece tutto quello che è importante prima di iniziare ad impostare una strategia quindi gli aspetti fondamentali prima di entrare a mercato. È importante che individuate il trend e il contesto. Abbiamo parlato di tendenze quindi trend rialzisti e ribassisti e fasi laterali. Prima di impostare una strategia è importante che voi individuate qual è il trend e il contesto in atto cioè se siete in una fase laterale se siete in una fase ribassista rialzista direzionale se siete in un micro trend in un trend di medio lungo l'orizzonte temporale fate tanti esercizi in modo tale da riuscire a prendere confidenza con quelli che sono le fasi e i cicli di mercato. Scegliete una sola tecnica quindi se battezzate la price action andate avanti con la price action indicatori oscillatori analisi fondamentali fondamentale non è importante quale tecnica decidiate di utilizzare ma è importante che ne utilizzate una soltanto perché alcune tecniche intanto non si sposano con altre per esempio se fate un trading di tipo multi day su 2, 3, 4 giornate non potreste usare l'analisi fondamentale insieme alla price action e inoltre genera confusione utilizzare tecniche differenti cioè così radicalmente differenti come potrebbe essere l'analisi fondamentale con gli indicatori e gli oscillatori se si opera l'intraday guardate sempre il grafico daily utilizzatelo come faro di riferimento nel momento in cui voi avete impostato o comunque desiderate impostare una strategia di tipo intraday dovete guardare sempre a un overview e una panoramica generale quindi individuate il trend del contesto siete in fase direzionale siete in fase di lateralità guardate le candele che hanno preceduto la sessione odierna o quella che deve aprire in modo tale da poter prevedere magari non ci riuscirete ma dare qualche probabilità in più di capire comprendere quale possa essere la direzione del mercato di quella giornata o delle giornate seguenti non utilizzate troppi indicatori e oscillatori insieme perché questo genera confusione ed alcuni oltretutto forniscono le stesse informazioni se mettete insieme due, tre o quattro indicatori trend following vi forniranno le stesse indicazioni quindi non avrete delle conferme alla vostra strategia ma creerete solo confusione se utilizzate indicatori e oscillatori utilizzate magari un indicatore ed un oscillatore che vi permetta di mettere un filtro a quelle che sono le vostre operazioni se possibile infine partite sempre dal prezzo perché è il cuore di qualunque tecnica e dall'analisi del grafico e poi cercate delle conferme in questo caso per esempio potreste partire dalla price action e poi cercare delle conferme con indicatori e oscillatori oppure partite dal prezzo e associate un indicatore come filtro o un oscillatore come filtro e a a a a a a a